Donald Trump è in Giappone per una quattro giorni di visita durante la quale ha incontrato anche il primo ministro Shinzo Abe. Tra i temi discussi dai capi di Stato, la Corea del Nord e le relazioni commerciali tra i due paesi. Sul tavolo anche la spinosa questione dell'Iran. Per i media nipponici il premier Abe dovrebbe partire a Teheran il mese prossimo per provare a fare da mediatore. Credo fermamente che l'Iran voglia trovare un accordo, ha dichiarato il presidente statunitense e penso che sia molto intelligente da parte loro. Non vogliamo un cambio di regime, sia chiaro, ma la denuclearizzazione. Prima del bilaterale con il premier, Trump si era visto con il neoimperatore Naruito, in carica dal primo maggio dopo l'abdicazione del padre. L'inquilino della Casa Bianca aveva definito un grande onore essere stato il primo leader al mondo ad aver incontrato l'imperatore.